Magnifico, l'Università di Foggia oggi ha l'onore di accogliere Furio Colombo, ma insomma in questi anni ne ha scritta di storia. Com'è cambiata, non solo da quando c'è lei, ma anche da prima, fino ad oggi, questa nostra meravigliosa fabbrica di idee, di progetti, di cultura? È un'università che punta sempre di più alla ricerca scientifica di qualità, i risultati finora sono stati eccellenti, didattica di qualità, ma puntiamo sempre di più in direzione del consolidamento della terza missione, e cioè svolgere un'attività al servizio ovviamente del territorio, in modo da essere insieme con le imprese, con gli enti locali, la gabbra di commercio, gli ordini professionali, uno dei soggetti che contribuisce a un migliore e più equilibrato sviluppo socio-economico del territorio. È un'università molto seria, meno di un mese fa abbiamo fatto un open day con 1.700 studenti di scuole medie e superiori, è un risultato questo senza precedenti, studenti che sono venuti da 8 province limitate.